Buonasera e ben trovati in questa terza edizione del TG6 in apertura parliamo di sisma e parliamo dell'annuncio del presidente della regione Abruzzo Luciano D'Alfonso che ha reso noto come il prossimo 15 di settembre il capo della protezione civile Fabrizio Curcio e il commissario per la ricostruzione Vasco Errani saranno a Valle Castellana per incontrare i sindaci dei comuni del Terramano che hanno subito dei danni nei confronti che sono derivati dal sisma D'Alfonso oggi alla Dicomac di Rieti ha partecipato ad un incontro proprio con il commissario Errani e il capo della protezione civile Curcio e con lui anche i colleghi presidenti delle regioni Marche, Spacca e Marini dell'Umbria è stato anche un momento per fare una sorta di ricognizione circa le esigenze dei vari territori colpiti dal sisma dello scorso 24 agosto Ascoltiamo il presidente della regione D'Alfonso Noi stiamo andando avanti con questa tabella di marcia molto spinta Martedì incontreremo a Palazzo Chigi le forze sociali ed imprenditoriali dei territori e naturalmente anche del livello nazionale Stiamo dettagliando anche la macchina per quanto riguarda le risorse normative finanziarie per la ricostruzione e il 15 alle ore 15.70 a Valle Castellana verranno sia Errani che Fabrizio Curcio per incontrare gli altri comuni del Terramano che hanno conosciuto danni, danneggiamenti e crolli a seguito del terremoto del 24 di agosto Non rinvengo situazioni tali per cui ci sia bisogno per esempio di strutture mobili temporanee denominabili casette come nel caso per esempio di Amatrice o nel caso di Accumoli Noi opereremo nella dettagliata descrizione dei danni per fare in modo che ogni danno dove anche si verifica puntualmente anche a distanza di quelli che sono stati i fuochi dei danneggiamenti sismici anche quei danni puntuali fuori dalla realtà del cratere troveranno copertura amministrativa e finanziaria Io sono molto riconoscente alle realtà di protezione civile che hanno saputo animare le due realtà villaggio che hanno accolto cittadini che hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni o perché crollati o perché inagibili Un reparto completamente dedicato ai pazienti con patologie croniche che necessitano di una lungo degenza Stamani l'inaugurazione nell'ospedale di Ortona L'investimento è di 120 mila euro Procede il riordino della sanità in Abruzzo Dopo le polemiche che si erano sollevate e le preoccupazioni di chi vedeva togliersi dal proprio territorio interi reparti Ortona oggi inaugura un reparto dedicato esclusivamente alla lungo degenza Il concetto, portato avanti sin dall'inizio, è stato quello di evitare sovrapposizioni in più territori e dedicare invece pertinenze specifiche ai poli ospedalieri È un reparto nuovo ed è uno di una lunga serie perché abbiamo inaugurato ginecologia oncologica oggi lungo degenza, prossimamente ci sarà anche la dermatologia oncologica la riabilitazione e tanti altri servizi L'idea finale e conclusiva è quella di dire io scendo in campo con 11 giocatori che non siano 11 difensori che erano i vecchi presidi abruzzesi tutti a fare le stesse cose con numeri diversi e qualità scarsa invece l'idea è dare a ognuno una sua vocazione Il nuovo reparto, costato 120 mila euro all'asla di Bastolan Cianocchieti offrirà già dalla prossima settimana ospitalità con 24 posti letto dotati di tutte le più recenti innovazioni del campo a partire dai letti completamente automatizzati materiali tecnici per evitare le complicanze dei lunghi periodi costretti a letto un salottino pensato per gli incontri con i visitatori la ripavimentazione dell'intera area e la consapevolezza di poter gestire più appropriatamente un carico di pazienti che nel 2015 ha raggiunto le 1500 unità si tratta infatti di un modulo assistenziale connesso strettamente alla geriatria e a tutte le patologie definite croniche Ortona oggi è il presidio abruzzese con la più alto tasso di mobilità attiva cioè viene la gente da fuori qui a Ortona, dalle altre regioni e dalle altre province per farsi curare soprattutto per i servizi oncologici connessi al femminile purtroppo ma insomma così come ci sono i problemi il sistema sanitario con qualità come qui Ortona deve caricarsi di risolverli Il Movimento 5 Stelle ha presentato un video definito shock sullo stato di salute del fiume Pescara parlando di anni e anni di incuria da parte delle amministrazioni locali Pettinari attraverso un video avete mostrato le condizioni in cui oggi è il fiume Pescara avete definito questo un video shock perché? Sì intanto voglio ringraziare l'autore che è un simpatizzante del Movimento 5 Stelle Lorenzo Bosi un cittadino, un semplice cittadino che ha fatto quello che avrebbe dovuto fare lo Stato quindi quando i cittadini si sostituiscono allo Stato è una grandissima cosa è un video shock perché documenta dall'Aquila a Pescara, dal fiume Aterno al fiume Pescara tutti gli scarichi abusivi è allarmante perché ci fa vedere tutti questi scarichi abusivi ogni 100 metri con acqua nera acqua putrida acqua schiumosa che va e impatta all'interno del nostro fiume che ho anche delle trote, dei pesci lui documenta morti, senza vite e in alcuni tratti non c'è proprio vita per centinaia e centinaia di metri quindi io dico ma è mai possibile che questo problema c'è da decenni e le varie amministrazioni che si siano succedute non sono mai riusciti a fare una mappatura millimetrica e puntuale come ha fatto questo cittadino e soprattutto intervenire con le forze di polizia a disposizione per sanzionare e stoppare queste emissioni perché le forze di polizia senza ombra di dubbio si sono mostrate sempre a disposizione ma era la politica a doverle utilizzare con forza per poi andare e bloccarle invece torniamo ancora oggi a parlare di queste cose il Presidente della Regione in campagna elettorale aveva promesso ai cittadini fiumi più belli e più puliti tutto il contrario questa è la realtà perciò è drammatica allora noi diciamo noi abbiamo presentato diversi atti in Regione per risolvere questo problema abbiamo le nostre proposte che non vengono ascoltate siamo disponibili a metterci attorno a un tavolo se loro ci chiamano anche a fare proposte migliorative per andare avanti bisogna rimboccarsi immediatamente le maniche perché il problema è serio e ora andiamo a Teramo il Sindaco Maurizio Brucchi dopo la riunione con i dirigenti scolastici svoltasi in mattinata ha ufficializzato la data di riapertura delle scuole comunali si torna sui banchi il prossimo 19 settembre questa mattina a seguito del sopralluogo fatto fin dalle prime ore della mattina in tutte le scuole in quelle dove si stanno svolgendo i lavori mi sono reso conto che i lavori non termineranno per la giornata di domani e domenica c'è bisogno ancora di qualche giorno in alcune scuole lunedì in altre scuole martedì in altre mercoledì voglio ribadire che non sono problemi strutturali sono i problemini che avevamo segnalato cioè di sistemazione di un intonaco di sistemazione di un calcinaccio insomma quindi lavori di piccola manutenzione però terminati questi lavori dobbiamo anche sapere che poi le scuole vanno pulite e quindi di concerto con i cinque dirigenti scolastici che ho ricevuto poc'anzi abbiamo insieme deciso che a questo punto è meglio di aprire il 19 ci sarà questa settimana che servirà a rimettere a posto tutte le scuole e in modo che per il 19 le scuole saranno pronte a ricevere i ragazzi questo tra l'altro serve anche un po' come dire ma non è la motivazione ovviamente principale serve un po' anche a cercare di rasserenare un po' gli animi tutte le nostre scuole non hanno subito danni tutte le nostre scuole sono agibili 12 di queste scuole hanno la verifica sismica sulle altre 19 ci stiamo attrezzando ieri il dato che ci ha dato la regione lo voglio sottolineare in Abruzzo la media delle scuole con verifica sismica è pari al 3,8% a Teramo è pari al 39% questo non è che mi solleva da come dire da quello per quello che c'è da fare assolutamente però questo fa capire che noi abbiamo lavorato se la media delle scuole in Abruzzo che hanno la verifica è sotto il 4% noi siamo vicino al 40% insomma vuol dire che tutto sommato in questi anni ci siamo dati da fare che che ne dicano poi gli altri però questo adesso mi interessa il comune di Chieti è intervenuto sul caso della sicurezza nelle scuole questa mattina è stato fatto un rendiconto di tutti gli interventi operati fino ad oggi adeguamenti messa in sicurezza e analisi degli esperti per una spesa complessiva di 10 milioni di euro se negli ultimi giorni l'attenzione generale è stata dedicata alla sicurezza degli edifici scolastici per l'imminente riapertura delle scuole dopo il sisma del 24 agosto scorso suscitando anche forte preoccupazioni per molti genitori il comune di Chieti mette in chiaro tutte le attività portate avanti dal 2009 ad oggi sul fronte prevenzione e messa in sicurezza il comune ha speso un milione di euro in attività che hanno coinvolto tecnici ed esperti per mappare lo stato di salute di più di 30 edifici il più importante degli investimenti cioè quello che doveva dirci in che stato di salute fossero le nostre scuole lo abbiamo fatto noi dal 2009 in poi e valgono un milione e centomila euro di studi di vulnerabilità e grazie a questo che oggi noi sappiamo lo stato in cui si trovano le nostre scuole e da quello partiamo per dire innanzitutto che le nostre scuole e quelle aperte sono agibili due le abbiamo chiuse perché non agibili e sulla scorta degli studi di vulnerabilità sismica abbiamo iniziato gli interventi la montare degli investimenti adoperati per le scuole è di quasi 10 milioni di euro 32 edifici scolastici che comprendono asili nido scuola dell'infanzia scuola primaria secondaria di primo grado per un totale di 4.900 alunni la buona notizia è che non ci saranno variazioni sull'avvio dell'anno tranne per una scuola che da pochi giorni ha concluso i lavori di adeguamento sismico nessuna variazione se non lo slittamento di soli tre giorni per la primaria e per la scuola dell'infanzia di Via Lanciano dove abbiamo fatto lavori di miglioramento di adeguamento sismico e dove sono in corso i lavori di sistemazione e di ritrasferimento degli arredi che si trovavano presso un'altra scuola una donna e i suoi due figli di 8 e 5 anni sono rimasti feriti in un tamponamento tra auto a auricola in provincia dell'Aquila sono stati trasportati nell'ospedale di Avezzano dove dopo i primi controlli i medici hanno ritenuto non gravi le loro condizioni accertamenti sulle modalità dell'incidente che ha coinvolto altri due veicoli sono in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Tagliacozzo il comitato Braga a Teramo esprime preoccupazione per il futuro dell'istituto musicale rimasto senza sede dopo il terremoto dello scorso 24 agosto e attacca l'amministrazione comunale per aver proposto una sede senza alcun requisito di legge il comitato Braga esprime preoccupazione per il futuro dell'istituto musicale che dopo il terremoto dello scorso 24 agosto si è visto sparire a causa dei danni provocati dal sisma sia la sede storica di Piazza Verdi sia l'edificio del Comi dove temporaneamente svolgeva la parte didattica sicuramente non ci aiuta l'atteggiamento dell'amministrazione comunale dichiarato il presidente del comitato che invece di dare una mano continua a proporre una sede come il parco della scienza che non ha alcun requisito né di legge né logistico per ospitare un conservatorio tantomeno si riesce a parlare in città di una scuola come la Molinari che attualmente è vuota e che paradossalmente viene pensata come soluzioni per delle scuole in difficoltà quindi prendiamo atto che il conservatorio per il sindaco di Teramo non è una scuola l'istituto ha fatto una richiesta al demanio perché è stato individuato nell'ex archivio nella zona di Porta Romana una possibilità concreta visto che ha tutti i requisiti e attualmente è vuoto sostanzialmente però i tempi burocratici non sono veloci vogliamo mettere in evidenza anche le difficoltà dell'utenza che si trova a dover spostarsi momentaneamente insomma nella sede di Giulianova che è stata individuata come pagliativo per mantenere una continuità didattica questa situazione rischia di protrarsi e sta creando grossi problemi anche in termini di iscrizioni per l'anno che sta arrivando quindi questa è la prima cosa poi tra l'altro volevamo ribadire questa assoluta impossibilità a prendere in considerazione la sede del Parco della Scienza come idea inoltre anche una proposta da fare al Consiglio di Amministrazione cioè quella di esonerare come ha fatto l'Università di Teramo ad esempio ragazzi che provengono dalle zone del sisma per quanto riguarda il pagamento delle rette potrebbe essere un bel segnale Grazie ad un bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri ci saranno 18 milioni di euro per la riqualificazione urbana delle periferie importante la sinergia tra soggetti pubblici e privati Sindaco Alessandrini 18 milioni di euro grazie ad un bando della Presidenza del Consiglio per riqualificare le periferie urbane in questo caso le periferie della città di Pescara è un bando molto importante che la Presidenza del Consiglio dei Ministri è licenziato a fine maggio ci sono complessivi 500 milioni 18 per città capoluogo di provincia la città di Pescara naturalmente partecipa con l'ambizione di vincere a questo bando lo fa avendo sviluppato forme virtuose di partenariato con i soggetti pubblici e con i soggetti privati e il concetto è che questi 18 milioni sviluppano interventi per complessivi 58 gli ambiti sono quelli della riqualificazione della sicurezza delle periferie una scelta non casuale visto che le periferie sono luoghi molto sensibili del terzo millennio abbiamo coinvolto professionalità interne ed esterne del comune abbiamo lavorato nel mese di agosto abbiamo inviato il progetto il 29 di agosto attendiamo naturalmente i tempi della Presidenza del Consiglio per esaminare questo progetto e gli altri progetti che senza altro arriveranno dalle città e siamo naturalmente ottimisti perché abbiamo svolto un lavoro senz'altro di qualità volto ad assicurare quella che Renzo Piano definirebbe la ricucitura e il rammendo urbano riqualificazione urbana ma parlando di periferie anche un recupero sociale di queste zone penso al fatto che oggi noi dobbiamo confrontarci con una società complessa che fa i conti con un terrorismo globale e questo terrorismo in Europa in tutta l'Europa si sviluppa proprio nelle periferie l'abbiamo visto a Parigi l'abbiamo visto a Bruxelles certamente Pescara non ha di questi problemi ma è ugualmente importante procedere con interventi che abbiano naturalmente una valenza inclusiva sociale così importante La Regione Abruzzo stanzia 200 mila euro per sostenere le iniziative di protezione civile locale è aperta la presentazione dei progetti è possibile presentare i progetti per la concessione dei contributi alle unioni di comuni per la creazione e rafforzamento dell'ufficio unico di protezione civile la Giunta regionale ha infatti approvato l'avviso pubblico relativo il documento si prefigge di incentivare e sostenere le politiche di associazionismo tra i piccoli comuni attraverso la gestione di servizi con una copertura finanziaria pari a circa 210 mila euro sarà possibile presentare un solo progetto che può essere finanziato per un importo non superiore a 20 mila euro da concludersi entro il 31 dicembre 2017 attraverso l'ufficio unico i comuni dell'Unione prendono in considerazione i rischi potenziali per la popolazione le infrastrutture e il territorio stabilendo l'organizzazione delle risorse in termini di persone mezzi e materiali e le modalità per svolgere le attività di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi l'organizzazione è calcolata sulla realtà dei comuni dove sarebbe impossibile realizzare una struttura di protezione civile autonoma in quest'ottica si lascia quindi all'ufficio il compito della gestione delle attività tecnico-organizzative i sindaci restano comunque responsabili della gestione dell'emergenza nel proprio territorio con questo provvedimento addetto il sottosegretario alla protezione civile della regione Abruzzo Mario Mazzocca intendiamo sostenere le politiche locali di promozione e associazione tra piccoli comuni rafforzando la loro capacità istituzionale e amministrativa per gestire l'emergenza stiamo all'aquila perché entra in consiglio la nuova consigliera di parità la disuguaglianza di genere nelle politiche del lavoro sarà il punto di partenza sarà Alessandra Genco classe 65 pescarese fino a qualche mese fa la componente della segreteria regionale della CGL la nuova consigliera di parità della regione Abruzzo sua supplente la teramana Monia Pecorale classe 72 dipendente dell'istituto zoo profilattico di Abruzzo e Molise Genco e la Pecorale sono state nominate il 9 agosto dal ministero del lavoro e delle politiche sociali su designazione però della regione Abruzzo Genco sostituisce Letizia Marinelli che anche su questa testata aveva denunciato una vera e propria azione di mobbing nei suoi confronti e l'assenza di mezzi e strumenti per svolgere l'incarico contestando anche la validità dell'avviso pubblico indetto a marzo la priorità delle politiche di genere in Abruzzo ha subito detto la Genco riguarderà il mondo del lavoro quindi vedremo qual è la situazione in modo da poter agire con gli strumenti che sono messi a disposizione dalla regione dall'Europa e dalla pari opportunità nazionale per verificare quindi una situazione e costruire un progetto di azioni che sono le famose azioni positive per far sì che tutte le discriminazioni nei luoghi di lavoro vengano meno ma questo riguarda anche la violenza sulle donne che è un punto fondamentale nei luoghi di lavoro c'è violenza in alcuni casi viene denunciato in altri no quindi è un ambito assolutamente ampio quindi è la conoscenza quello che per il momento è la mia priorità Marinella sclocco entrando nel merito ha elencato dunque gli strumenti finanziari per dare concretezza a queste politiche di parità oltre alle normative che esistono già sulle pari opportunità uno strumento finanziario è l'FSE con l'FSE abbiamo già previsto diverse misure a favore delle donne intanto per esempio c'è il microcredito con il microcredito negli ultimi due anni diciamo abbiamo voluto usare questo strumento cercando di aiutare le donne escluse dal mondo del lavoro con un'età diciamo adulta che sono le più complicate da reinserire che sono quelle che hanno più probabilmente una famiglia sulle spalle e ora torniamo ad occuparci di una vicenda molto attuale a Pescara ovvero il taglio degli alberi questa mattina se ne è parlato in commissione controllo e garanzia la presenza anche delle associazioni ambientaliste ho voluto convocare questa commissione proprio per trattare un argomento che in questi giorni va per la maggiore in città perché questa vicenda è veramente inquietante e l'amministrazione che sta tagliando alberi a tutto spiano senza un effettivo controllo soprattutto pini che sono la storia di Pescara ecco vogliamo capire perché c'è questa operazione che si sta portando avanti a tamburo battente senza ascoltare le associazioni senza ascoltare i cittadini senza ascoltare i consiglieri comunali che hanno preso una posizione chiara perché questa vicenda può essere gestita nella maniera migliore non in maniera improvvisata come si sta facendo sì c'è questa relazione di cui si parla ma mi sembra che ci siano relazioni altrettanto importanti che dicono che forse questi alberi non dovevano essere tagliati e che di fronte a una situazione tale per cui ci sono delle zone in cui gli alberi e i pini sono rappresentativi di una storia della città bisogna andarci con i piedi di piombo ecco chiediamo al sindaco di evitare queste posizioni oltransiste io l'ho definito scherzosamente Attila in questi anni perché con la vicenda del mare o altre vicende sicuramente lui non sta facendo gli interessi della città però sulle piante e sui pini veramente sta esagerando abbiamo convocato anche le associazioni che si interessano di ambiente perché loro hanno preso chiaramente una posizione definita ma credo che questa sia la posizione di tutti i cittadini di Pescara è morto a Boiano in provincia di Campobasso sua città natale Monsignor Antonio Nuzzi aveva 90 anni Nuzzi era stato eletto vescovo nel 1981 e guidò la curia di Conzanusco e Sant'Angelo dei Lombardi in campagna negli anni successivi al tragico terremoto dell'Irpinia dal 1988 al 2002 invece fu vescovo della diocesi di Teramo Atri in Abruzzo dopo essere andato in pensione si era ritirato appunto nella sua Boiano dove è morto e dove domani sabato alle ore 11 saranno celebrati i funerali ed ora apriamo la pagina sportiva e parliamo di questa antivigilia di Pescara Inter che non sarà una partita qualunque per il difensore biancazzurro Cristiano Biraghi che ha fatto tutta la trafila delle giovanili dell'Inter e lui stesso a confermarlo per me è una partita speciale ma nessuna vendetta nei confronti della società nerazzurra ascoltiamolo è stata la mia squadra per tanti anni la squadra della mia città la squadra per cui la squadra per cui ho tifato e per cui comunque tifo no non c'è rivals è sicuramente una partita è sempre una partita di calcio come tutte le altre però come tutte le altre non è perché comunque ripeto è una squadra che è stata per tanti anni la mia squadra quindi è una partita un po' speciale sicuramente sarà una partita difficile perché l'Inter non è partita bene perché hanno avuto i loro problemi con gli allenatori cambio di allenatore prima di iniziare il campionato che non è facile un allenatore che ha la prima esperienza in Italia che comunque credo non parli la lingua quindi farà anche fatica a comunicare e che comunque il lavoro che ha portato il lavoro di un allenatore ci vuole sempre un po' di tempo per vederlo adesso hanno avuto due settimane per lavorare sarà una partita difficile perché ha grandi giocatori grandi nomi l'Inter quest'anno si è rafforzata tanto e credo che sia appena al di sotto della Juve come qualità di giocatori quindi sarà una partita difficile molto difficile il Cicandreva è uno dei giocatori italiani più forti e più in forma in questo momento è un test forse più difficile dell'anno per me direttamente però sono tranquillo sto bene domenica si vedrà certo noi siamo una squadra forte siamo una squadra forte che impronta tutto sul piano del gioco abbiamo messo in difficoltà il Napoli abbiamo messo in difficoltà forse ancora di più il Sassuolo che secondo me era ancora più difficile del Napoli come partita perché il Sassuolo arrivava già da 5-6 partite ufficiali dove non aveva mai perso e dove comunque anche loro improntano tutto sul gioco e mettono sotto tutti noi invece dal primo all'ultimo minuto credo abbiamo fatto una partita di grande spessore e sempre per quanto riguarda la partita tra Pescara e Inter le maglie indossate appositamente personalizzate con una patch realizzata ad hoc saranno in vendita su ebay contemporaneamente sulla pagina ufficiale dell'associazione Massimo Oddo Onlus e sulla pagina ufficiale della fondazione Pupi che fa riferimento all'ex capitano e ora dirigente dell'Inter Savie Zanetti saranno pubblicate quotidianamente sui profili Facebook di riferimento e linkati sui siti delle due società per permettere ad amici sostenitori tifosi e collezionisti di partecipare alle aste e dare un sostegno a chi sta vivendo un tragico momento tutto il ricavato delle vendite servirà ad acquistare direttamente beni di prima necessità o materiale che saranno suggeriti da Croce Rossa e Protezione Civile per capire ciò che sarà realmente utile alle popolazioni colpite dal sisma i responsabili dell'iniziativa si recheranno personalmente a raccolta fondi ultimata per consegnare quanto acquistato e il 18 settembre prossimo non si giocherà a Crotone ma a Pescara la partita prevista in calendario tra la squadra calabrese ed il Palermo la notizia ormai ufficiale in seguito anche alle ultime novità emerse per quanto riguarda i lavori di realizzazione dello stadio Ezio Scida di Crotone una serie di prescrizioni da parte del CONI relative al progetto di adeguamento dello Scida costringono a rinviare la prima partita casalinga che era prevista appunto per il 18 settembre contro il Palermo consapevoli per il grande disagio subito da tutti i tifosi e cittadini di Crotone si legge in una nota congiunta di FC Crotone e Comune di Crotone per questo nuovo rinvio preso atto di tutte le disposizioni CONI società e Comune sono già in campo per rispondere in modo tempestivo e fattivo a tali richieste in tal senso è stata svolta nel pomeriggio una ulteriore riunione l'obiettivo è quello di mantenere elevato il ritmo dei lavori così come si sta già facendo per consegnare l'impianto alla città nel più breve tempo possibile e ora scendiamo in Lega Pro perché questo è un venerdì di vigilia in vista della gara di domani per il Teramo alle 18.30 allo stadio Bottecchia di Pordenone oggi seduta di rifinitura non sono stati convocati dal tecnico Zauli oltre a Orlando e Cericola neanche i centrocampisti di Paolo Antonio e Carraro si profila dunque la conferma del 4-3-3 con l'inserimento di Petrella tra i primi 11 e la conferma di Croce al centro dell'attacco tra i friulani il tecnico Tedino recupererà dopo la scolifica Burrai e sembra intenzionato a confermare i 10 undicesimi della squadra vincente a Forlì ascoltiamo ora l'allenatore del Teramo ed ex della partita ex allenatore del Pordenone Lamberto Zauli andremo a Pordenone per vincere la partita non per spiccare un eventuale volo noi vogliamo andare a Pordenone per vincere la partita perché in questo momento penso che oltre alla classifica ci serve soprattutto per dare autostima per credere in quello che facciamo per compattare un gruppo completamente nuovo quindi noi siamo concentrati non su Modena ma su Pordenone andiamo a affrontare una squadra forte dove l'anno scorso ha fatto la semifinale dei playoff dove quest'anno sono arrivati tanti giocatori quindi noi dobbiamo pensare a noi non alla classifica non in questo momento del campionato chiaramente sapendo che servono le partite da impresa per fare punti in questo campionato e quindi lo spirito che mi piacerebbe vedere della squadra deve essere assolutamente quello di domenica scorsa con miglioramenti sotto l'aspetto tecnico tattico che sicuramente ci vogliono per ottenere punti No ma io non mi sento un ex l'ho sentito scritto perché purtroppo quella parentesi è cominciata non è neanche mai cominciata perché sin dall'inizio andai a parlare col presidente lui dopo aver parlato con tante persone dopo un quarto d'ora decise che ero io l'allenatore poi ci furono tanti problemi da subito e infatti insomma dopo pochissime partite finì finì rapporto quindi sono stato lì è stata una parentesi molto negativa professionalmente ma sotto il profilo dell'esperienza molto utile e quindi come tutte le cose mi piace guardare sempre il bicchiere mezzo pieno e quindi è stata un'esperienza per la mia crescita positiva anche questa brevissima di Pordenone non cado nelle provocazioni io penso che il modulo che abbiamo fatto col Bassano ci dia un po' più di compattezza rispetto a quello che avevamo fatto nelle partite precedenti e quindi pensiamo di continuare così abbiamo valutato anche un'altra alternativa che non dico se no capace me la fibbia al vicepresidente era questo l'ultimo servizio del TG6 che torna domani con la prima edizione delle ore 14 grazie per l'attenzione buonanotte l'ultimo servizio grazie a tutti